8.000 chili di parmigiano reggiano finiranno sulle tavole degli alberghi di Jesolo, Caol e Bibione. Gli operatori turistici del litorale veneziano hanno risposto immediatamente all'appello della Col di Retti per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal sisma. Il prezioso grana doc rimasto danneggiato dalle scosse è stato acquistato in tre giorni a tonnellate dagli albergatori e gli acquisti potrebbero continuare ed estendersi anche ad altre località balneari. I consorzi di promozione turistica in collaborazione con l'associazione di categoria stanno sensibilizzando i ristoratori e gli chef ad assorbire le forme di grana che si sono rotte cadendo dalle scaffalature e che devono essere subito consumate. La Col di Retti avverte che bisogna però sincerarsi che si tratti di vero parmigiano reggiano e non di imitazioni in commercio realizzate all'estero. E intanto il governatore del Veneto Luca Zai ha annunciato l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per gli sfollati e i cittadini danneggiati dal sisma in Polesine. Tramite Veneto Sviluppo inoltre sono stati stanziati fondi per fornire crediti a tasso zero alle imprese di Rovigo che rischiano il blocco delle attività e le società del Veronese hanno messo a disposizione i loro capannoni per dare continuità alle attività produttive della vicina Emilia.